Un verdetto assai discutibile pone fine all'esperienza ungherese di Roberta Bonatti. L'atleta della Salus et Virtus, allieva di Roberto Alberti, è stata sconfitta dalla parietà turca Asal nella categoria 46 kg per 3 a 0. Si trattava del primo turno del campionato che mette in palio il titolo dell'Unione Europea. Del tutto in disaccordo con il verdetto, il coach Alberti, piuttosto severo nel commento, la presenza di alcuni giudici di nazionalità turca non ha certo aiutato a stemperare gli animi. Tre riprese in cui la Bonatti ha messo in mostra le sue qualità di picchiatrice, che non sono però risultate sufficienti per proseguire in questa sua nuova avventura con la maglia della nazionale. La giovane piacentina viene da un bel terzo posto conquistato lo scorso autunno in Polonia ai campionati europei. È stata comunque un'esperienza importante nel suo percorso di crescita, ha concluso Alberti, scopritore della pugilessa piacentina.